Un nuovo logo, una nuova proprietà, un nuovo piano industriale, l'aeroporto Allegri di Padova si appresta a vivere una riqualificazione delle strutture, delle piste e anche dell'immensa area che era a pannaggio dell'aeronautica militare, 8000 metri quadrati, dove verranno realizzati hangar per il riparo dei velivoli, ma anche per chi l'aereo se lo vuole costruire da solo, ci sono già ben 10 richieste in questo senso. L'area si presta anche ad ospitare eventi e c'è già chi pensa di spostare qui la movida dei navigli padovani, potenziati i sistemi di sicurezza con tecnologia PBN e con GPS e operatività H24, una modalità determinante anche per l'hub sanitario. I punti principali sono far entrare attraverso l'aeroporto la città di Padova nel sistema di Milano-Cortina delle Olimpiadi, far ricadere tutto un insieme di risorse per utilizzare l'aeroporto come hub di aviazione civile per tutto il Veneto, non solo per Padova. Sono stati già allocati più di un milione e mezzo di euro da parte di ENAC per rifare la pista, rifare i piazzali e insieme a Aeronair, la società che lo gestisce, stiamo ipotizzando di implementare tutto quello che riguarda la segnaletica a terra e il sistema non più in radiofrequenza ma in GPS per permettere gli atterraggi e le partenze di notte o con poca visibilità. Divulperanno in maniera importante la sicurezza, i droni, l'aspetto medicale, vi ricordo che questo è un aeroporto gestito, non è socio del Comune, per cui il Comune può solo fare pressione perché venga fatta al massimo la sicurezza. Ma questo è un aeroporto per trasporto all'ordine sanitario di primo livello, infatti loro hanno pensato di illuminare di notte per far sì che eventuali trampianti di ordine possano venire. Alle nostre spalle c'è un'area gigantesca che diventerà un po' operativa a servizio dell'aeroporto ma anche un po' il salotto della città. Sì, la speranza è proprio questa, a far vivere l'aeroporto al cittadino di Padova e a integrare il cittadino con l'aeroporto, non più come un'entità a parte, come un'entità terza, ma bensì una risorsa e una struttura al servizio di Padova. Il futuro dell'aeroporto si declina in voli privati, anche aerotaxi per attirare il turismo straniero, ma sempre più importante sarà in un futuro molto prossimo anche il volo dei droni. Sull'Allegri insistono già due scuole di volo con il drone, ma procedono spediti anche i protocolli per utilizzare questi innovativi velivoli senza pilota in moltissime situazioni. C'è una parte visionaria che si chiama Verti Porti. I Verti Porti stanno diventando una realtà, l'Agenzia Europea per la Sicurezza del Volo ha emesso nel mese di marzo la regolamentazione prototipale ma operativa per i Verti Porti. Padova potrebbe essere una candidata ideale all'aeroporto di Padova, ma la città di Padova ad accogliere queste nuove opportunità di sviluppo tecnologico e di servizio in particolare. Proprio a Padova in questi anni si è svolta una sperimentazione importante per l'utilizzo di droni per la sicurezza assieme alla Polizia Municipale. La sperimentazione nazionale avrà origine in provincia di Padova. Ci siamo spesi in modo molto significativo tre anni di progetto perché dobbiamo tenere in considerazione tutto ciò che è la regolamentazione dei spazi aerei, la gestione della privacy.